Da un'idea in testa può nascere una casa da sogno. Lo sanno bene nell'azienda brianzola Borgonovo Loris, che ci spiega che la loro peculiarità è quella di garantire un lavoro realizzato nei minimi dettagli secondo le esigenze del cliente. Questa settimana l'Italia che produce fa tappa a Cesano Maderno, per scoprire da vicino un'attività che ha fatto dell'amore per il mestiere, del suo misura e della qualità, i suoi punti di forza. Mio papà è nato nella falegnameria, il suo primo lavoro era il falegname. Poi si è messo in proprio, ha creato la sua ditta, che è andata avanti fino all'88. Con il 68-89 sono subentrato io e poi dopo qualche anno lui ha lasciato la guida a me. Quindi, classico, adesso arrangiati, dimmi una mattina cosa devo fare e io te lo faccio. Allora ha collaborato con me una decina d'anni, poi lui è andato in pensione e io sono andato avanti. Insomma, eravamo 4 persone, adesso siamo in 12, abbiamo preso il capannone nuovo, prima uno, poi l'altro, poi abbiamo uniti e abbiamo iniziato un po' a crescere. Il nostro lavoro su misura, come dicevo, necessita l'occhio visile di chi è responsabile, perché basta un particolare che ti sfugge e tutto quello che è il perno del progetto, poi crollano, perché non hai modo di testarlo, fai un prototipo, poi lo sviluppo, cioè lo devi indovinare al primo tentativo, perché comunque noi lo sviluppiamo dall'idea, per cui noi dal cliente che ha l'idea, mi piacerebbe o mi dà un'immagine o che cosa, e noi dal libro parte a svilupparlo, per cui è creativo, a partire dai materiali che uno sceglie, i colori, gli abbinamenti e si sviluppa così, fino ad andare a un esecutivo, una renderizzazione per chi la vuole e poi parte in produzione. Però essendo pezzi unici ogni cosa è molto studiata, e c'è tanto della persona per quello che facciamo, per cui anche l'operaio che va a sezionare, che prepara il lavoro, deve avere ben chiaro cosa sta facendo, e solo un occhio esperto lo può fare. Poi quando arrivano le macchine 4.0, anche lì si vuole uno con capacità informatica abbastanza sfidiata, però ognuno va a fare il suo pezzo e alla fine il risultato normalmente viene bene, a volte mi fanno i complimenti spesso, per cui vabbè. Noi abbiamo clientela un po' in Italia sicuramente, poi stiamo lavorando con la Svizzera, con la Francia, siamo in Costa Azzurra. L'aspetto più bello sono la clientela, cioè il tuo lavoro. Quando riesci a farlo bene, allora lì appaga, ecco. Non ci pensi più al sacrificio, quello è la cosa più bella. Per il resto è un lavoro, però ecco, la soddisfazione, l'artigiano è quello. Il tuo pezzo è unico, lo fai, ci hai pensato, ci hai ripensato, e alla fine lo vedi, ti fanno i complimenti, boh, basta. Basta, e basta. E via. E via.